Parliamo di 11 Pro, sì perché è importante chiarire che da oggi in avanti dovremmo abituarci a chiamarli soltanto 11 Pro o 11 Pro perché il suffisso Adipur non sarà più utilizzato o comunque riconoscibile in questo modello seppur lo scarpino poi rispecchi in toto il concetto di tutte le Adipur che siamo stati abituati a vedere Questa è l'Adipur del Samba Pack, subito dobbiamo dire che non si devono preoccupare i puristi del mondo Adipur anche dal punto di vista estetico perché chiaramente Adipur vedo comunque un'impronta importante per i colori Samba e del Brasile anche per le Adipur ha previsto una colorazione molto particolare l'impatto visivo è sicuramente gradevole ovviamente poi l'estetica è qualcosa di veramente soggettivo andiamo però ad analizzare lo scarpino nel dettaglio perché le Adipur hanno subito comunque un cambiamento importante prima cosa che salta l'occhio la forma è diversa cambia il sistema di cuciture e quindi in tutta la parte della domaglia frontale troviamo queste cuciture a rombo e personalmente siamo convinti che anche a livello estetico questa sia stata una scelta molto gradevole le strisce di Argas sono sia nella parte interna che nella parte esterna sono assolutamente omogenee e la parte del tallone comunque appunto vuole esaltare il suffisso 11 Pro e quindi farle notare con il sito della quality leather appunto quanto questo scarpino rispecchi il mondo delle persone che amano ancora giocare in belli molto interessante anche la parte centrale con l'allacciatura veramente classica dobbiamo dire che c'è veramente pochi 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 appunti da fare su questo scarpino a livello di impatto visivo perché a noi è piaciuto molto, è piaciuto molto a tutti e anche dal punto di vista dell'innovazione, del rinnovamento non c'è stato poi un grossissimo cambiamento dal punto di vista della qualità dello scarpino altra cosa che è da analizzare la suola infatti cambia e si modifica rispetto ai modelli precedenti diciamo che adidas aveva unificato un po' le suole quello che era la composizione dei tacchetti per tutti i suoi scarpini adesso si va verso un'altra direzione per dare comunque le garanzie giuste per ogni tipo di scarpino anche se fino ad oggi ci hanno giusto molto poi le scelte quindi immaginiamo che si continui sempre su una strada di grandi scelte per quanto riguarda le suole troviamo i tacchetti posteriori con una forma leggermente diversa anche se forse è un po' impercettibile mentre invece nella parte frontale la disposizione può essere magari non completamente diversa ma sicuramente anche i materiali e come il tacchetto poi entrerà nel terreno darà una percezione diversa rispetto a quello che era stato fino ad oggi un tacchetto un pochino più circolare e meno diciamo cattivo appunto sul terreno per fare tutto questo però vogliamo paragonarla all'Adipur che fino ad oggi avevo calzato eccola qua uno scarpino che fino ad oggi ci ha accompagnato per anni hanno visto le prime Adipur, Adipur 2 e Adipur 3 che hanno fatto la felicità di moltissimi amanti di questa tipologia di scarpino fino ad arrivare a questo modello sicuramente queste Adipur nuove anzi queste 11 pro scusate l'errore ricordano un po' quella quel tipo di scarpa quella amata tantissimo da tutti a questo punto infatti probabilmente ha da assoluturare questo tipo di impronta volendo rinnovare e volendo cambiare anche un po' la forma e tutto quello che riguardava poi la tua magia subito una cosa importante da dire non c'è modifica né di taglia quindi potete andare assolutamente sulla stessa e non preoccupatevi perché non perderete assolutamente il comfort che eravate capito da avere con i vecchi anni anzi probabilmente avrete arrivato con lo scarpino ancora più performante e sicuramente più innovativo dentro della Tomala la vediamo bene molto più lineare e nel tallone rialzato per dare ancora più protezione e comunque sia per far percepire ancora più lo scarpino al piede andiamo a vedere la suona come già detto i tacchiti sono leggermente più bassi cambiano un po' la forma per quanto riguarda appunto proprio il tacchetto in se stesso la disposizione è veramente simile con l'aggiunta vedete qua di un tacchetto nella parte frontale quindi non più tre tacchetti vedete che nell'aggiunta precedente era molto importante ma due tacchetti probabilmente questo per dare ancora maggior comfort su questa zona dove il piede appoggia sempre il tacchetto centrale in questa suona è stato avanzato di un centimetro un centimetro e mezzo e per quanto riguarda invece la parte posteriore si un po' la forma però vedete che la conformazione del tacchetto è quella garantita poi sempre da Adidas eccole qua chiudiamo con le 11 Pro dicendovi che anche su queste c'è tutto il dettaglio del sample ci apprezziamo ad andare sugli ultimi due segmenti di Adidas per quanto riguarda questo sample e ci apprezziamo grazie